Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, è ufficiale Cambiaso alla Juventus, Dragusin al Genoa, però Cambiaso dovrebbe essere girato il Bologna, non voglio sempre fare polemiche, però non si sa, allora a me Cambiaso non è che mi faccia impazzire, io l'ho avuto al Fanta Calcio l'anno scorso, ho fatto bene i primi mesi, poi è andato un po' a calare, un po' come tutto il Genoa, quindi non lo so, io credo che sia un colpo un po' alla Pellegrini, cioè prendiamolo, nel caso facciamo una plusvalenza, però ricordiamo che le plusvalenze contano per l'immediato, ma poi contano i cash che prendi, la liquidità che hai, quindi non so, staremo a vedere, io Cambiaso appunto, a me è un giocatore indifferente, ovvio se ti fa la riserva ci può anche stare, adesso comunque verrà girato in prestito, io sono dell'idea che se tu punti veramente su un giocatore, io non ho memoria di giocatori che sono stati girati in prestito e che poi sono venuti alla Juventus e hanno fatto i titolari inamovibili, cioè sono venuti alla Juventus, sono tornati alla Juventus magari perché non avevamo altre alternative e hanno fatto le riserve, cito proprio Pellegrini, cito Daniele Rugani, cito questi giocatori qua, quindi non lo so, io credo che quando si sceglie una cosa, cioè si fanno queste scelte qua, su giocatori giovani anche, significa che non è che ci punti tantissimo sul giocatore, che lo prendi semplicemente perché, oh se va bene, va bene, se non va bene, faremo, speriamo una presovalenza, diciamo che hanno approfittato del fatto che il Genoa è andato in B, quindi Cambiaso è stato un po' svenduto sotto quell'aspetto, perché comunque è uno dei migliori giocatori del Genoa, adesso io non so quanto l'abbiamo pagato, però credo sui 10-10 milioni, credo, adesso è uscito il comunicato ufficiale, magari lo andiamo anche a leggere, e di solito leggo i comunicati ufficiali, stavolta non l'ho letto, andiamo a leggerlo, vediamo, 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 allora ufficiale Dragusin, non me ne frega di Dragusin, sinceramente con tutto rispetto per Dragusin, ovviamente, Cambiaso, eccolo qua, allora, 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 Cambiaso, vediamo, mettiamoci in attimo gli occhiali se non ci leggo un cazzo, allora, Cambiaso, arriva titolo definitivo del Genoa, stiamo parlando di Andrea Cambiaso, accordo con il Genoa, accordo con il Genoa, comunica la società del Genoa, ok, titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso a fronte di un corrispettivo di 8 milioni e mezzo pagabili in due esercizi, inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 3 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi, la Juventus è stato scritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027, quindi sono di fatto 11 milioni, 4, 5, 6, quindi ha firmato un quinquennale, non so quanto prenderà la stagione, penso sui due e mezzo, più o meno, un milione, no, forse si vociferava addirittura un milione, adesso non mi ricordo, comunque, bene o male non tantissimo, quindi non è una spesa, a differenza di quello che sarebbe, no, Zaniolo, che sarebbero soldi buttati nel cesso, secondo me, vabbè, sia a livello di ingaggio, sia a livello di cartellino, perché io su Zaniolo non ci potrei neanche una lira, poi farà bene, per carità, adesso vedremo, io sono dell'idea, e da quello che mi arriva anche a me, è che più la Roma che ci spinge da Zaniolo, ve l'ho detto, e poi tra l'altro è stato confermato nei giorni dopo, successivi, da Balzarini, da Monblano, anche sta cosa qui, quindi, boh, staremo a vedere, io su Zaniolo andrei molto cauto, comunque, questo è Cambiaso, appunto, che verrà girato in prestito, comunque, benvenuto Andrea Cambiaso, voto all'acquisto, voto all'acquisto, senza voto, cioè, che cazzo vogliamo dire, voto all'acquisto, per come è messo, diamo un 5, cioè, non è che 5 e mezzo, ecco, 5 e mezzo, per me è il voto più giusto, non è né carne né pesce in questo momento qua, secondo me, per Zaniolo sarò molto più cattivo qualora dovesse arrivare, comunque, ve lo dico. Detto questo, poi ripeto, il campionato italiano può fare anche la sua bella figura Zaniolo, eh, si è chiaro, però, se arriva per fare la riserva è un conto, se arriva per fare il titolare è un altro, perché abbiamo già Chiesa, che qua tutti dicono, eh, ma l'esterno, a sinistra siamo già coperti, dove? Perché torna Chiesa e tu sei sicuro, tu dai l'affidabilità al 100%, a un giocatore che arriva da un legamento rotto, senza calcolare potenziali ricadute, a livello muscolare, non dico per forza dei legamenti. Io non so questa affidabilità, cioè, chi ragiona così, effettivamente, veramente, sotto questo aspetto bisogna dirlo, non ha giocato mai a calcio, non ha mai avuto a che fare con un campo, con uno spogliatoio, con l'allenare o il giocare, o il dirigere, o fare il dirigente, perché significa veramente che di calcio sapete poco, se ragionate così. Perché dopo una rottura del genere, ragazzi, non c'è da scherzare, abbiamo visto Zaniolo, ne abbiamo visti altri, De Mirà, lo stesso non è stato più quello di prima, lo stesso Chiellini, che a me, lo sapete, non piaceva, ma dopo l'infortunio e i legamenti è stato ancora di più un ex giocatore. Gli unici che hanno fatto un qualcosina, che sono rimasti sotto allo standard iniziale, ok, ma comunque sono rimasti ad alti livelli, sono giocatori che possiamo definire campioni, quindi come Del Piero, come questi giocatori qua, lo stesso Baggio che aveva problema al ginocchio, Totti che ha avuto degli infortuni importanti, ma questi sono campioni, cioè, un'altra storia va, insomma, quindi io, io questo, su questa cosa qui sono molto titubante su Zaniolo. Per quanto riguarda un po' la situazione del calciomercato in generale, allora intanto, per quanto riguarda, questa è notizia mia, ovviamente è arrivata a me, per quanto riguarda i primi allenamenti, lo staff e anche i compagni sono stati molto, molto sorpresi, cioè sorpresi, molto entusiasti dell'arrivo di Di Mariam, non per quello che fa sul campo, che chiaramente sappiamo benissimo, ma atleticamente è molto, molto più avanti dei propri compagni, se voi pensate, e soprattutto appunto è messo molto bene, è messo veramente molto bene a livello atletico, quindi sotto quell'aspetto poi vediamo, perché comunque ha 34 anni, poi partire bene, poi finire male, quindi io, ripeto, non voglio chiamarla, ma sto molto attento ad essere esaltato, come fanno tanti, perché poi la delusione è dietro l'angolo, quindi poi non voglio sentire da quelli che magari va male la cosa, la stagione di Di Maria e di Pogba, faccio un esempio, e poi tirano merda sui giocatori, cioè per questo dico andiamo cauti, perché poi è troppo facile andare da un estremo, come l'esaltazione, a un altro al massacro dei giocatori, quindi stiamo attenti, vabbè, per quanto riguarda Di Maria questo, per quanto riguarda gli acquisti ragazzi, le cessioni, allora è molto semplice la cosa, anche se non è semplice sotto molti aspetti, perché è un calciomercato abbastanza incasinato. La Juventus in questo momento qua sta cercando di prendere un sostituto di Matthijs De Ligt, c'è poco a fare, De Ligt e il Bayern Monaco hanno l'accordo, la Juventus e il Bayern Monaco hanno l'accordo, può saltare solo ed esclusivamente se la Juventus non trova un sostituto, in questo momento qua perché non riesce a chiudere, perché tutte le squadre sparano alto, quindi sotto questo aspetto anche Pau Torres, da quello che sembra, il Villariano vorrebbe scendere al di sotto della clausola, la Juventus invece vorrebbe chiudere sui 40-45, faccio un esempio di Pau Torres, Bremer viene valutato di più di Pau Torres, fate un po' voi, quindi io spero che non venga preso Bremer e lì è più la società che spinge per Bremer e non Allegri, allora se tu prendi Bremer e Allegri e il tuo allenatore non lo vuoi, ti impunti, ti incazzi, c'è poco a fare, devi fare un qualcosa, perché se tu vuoi la difesa a 4 e Bremer ti condiziona e devi partire per forza a 3 all'inizio quantomeno, il problema è tuo, le critiche te le becchi te, non puoi dire però, eh vabbè ma mi hanno preso Bremer, se te è il allenatore che dovresti fare il manager, quindi devi fare una formazione, una rosa, una squadra a tua immagine e somiglianza, comunque questo per quanto riguarda appunto il difensore, poi c'è il discorso Zaniolo ma siccome sul discorso Zaniolo la Juventus temporeggerà perché ha la volontà del giocatore e la volontà della Roma di cederlo il primo possibile, quindi sotto quell'aspetto la Juventus sta temporeggiando per questo, Allegri non impazzisce per Zaniolo da quello che mi dicono rispetto a quello che credevamo fino a qualche settimana fa, qualche giorno fa, perché? perché Allegri vuole giocatori formati, su Zaniolo ci devi lavorare e non poco, perché non è specializzato in un ruolo, vuoi per il discorso infortuni, vuoi per altri motivi non è specializzato in un ruolo, non è un jolly, in questo momento qua è anarchico lui, cioè lui è anarchico veramente, in questo momento qua non sai dove metterlo più che altro, anarchico ovviamente sportivamente e tatticamente, un po' come lo era di bala, se tu ti levi un problema tattico e te ne prendi un altro, perché in questo momento qua Zaniolo ha giocato qua come sottopunto, come seconda punta, quindi vabbè, poi, 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 abbiamo la situazione allora Terzini è in stand by, perché in questo momento qua secondo me Danilo verrebbe spostato a sinistra a prescindere da Molina, cioè Quadrado probabilmente verrebbe comunque messo Terzino destro o vice di Maria, in questo momento qua, Quadrado non è incedibile, ok, però io credo che Danilo sia proiettato a Legri a metterlo comunque a sinistra, non credo sia fidia ad Alexandro, almeno inizialmente, poi se fa una stagione da Madonna a Alexandro meglio, però questo è, e quindi questa è la situazione centrale Terzini, per quanto riguarda il centrocampo, l'unico colpo che può arrivare è questo scambio tra Paredes e Ken, io escludo categoricamente, almeno quest'anno, uno come Bellingham, anche perché come caratteristiche mi pare un po' simile a Pogba, quindi, cioè per me non puoi avere due mesiali che strappano, cioè devi avere una mesiale che magari strappa, terremamente valida come Pogba, o un'altra che sappia inserirsi e che almeno appunto sappia fare soprattutto inserimenti e sappia essere un attaccante aggiunto, cioè non per forza prendere palle e strappare così, allora veramente la butti solo sui contropiedi, vabbè comunque, al di là di questo, per quanto riguarda l'attacco, l'esterno è un dubbio perché Zaniolo, da una parte, c'è il vice Vlaovic, che qua continuano a dire che Morato non può essere il vice Vlaovic, forse non vi ricordate che nell'anno nel quale siamo usciti contro il Bayern Monaco e anche quando siamo arrivati a Berlino, il signor Morata la prima punta la faceva, quando abbiamo perso contro il Barcellona a Berlino, la prima punta Morata la faceva perché qua continuano a dire Morata non può fare la prima punta, in Spagna viene usato come falso 9, il Barcellona di Xavi lo voleva come falso 9, siamo qui in Italia, anzi siete qui in Italia, voi che quei giocatori lì non li considerate, i falsi 9 non li considerate perché siete bloccati mentalmente, quello è il problema, quindi Morata se mi arriva come vice Vlaovic tutta la vita, se mi arriva come riserva o come esterno titolare no, mai nella vita, io esterno Morata non ce lo vedo a meno che non faccia come ha fatto la seconda partita di stagione, ma lo può fare all'occorrenza il secondo trequartista, non è un trequartista Morata, è uno che fa tanti assist ma non è comunque non ha i movimenti al trequartista e i dribbling, il dribbling al trequartista secondo me, tutto lì, quindi per me è un falso 9 Morata, è e lo sarà sempre, quindi quello può essere il vice Arnautovic, Sky Sport ha riportato questa cosa qui, il più probabile per me è Simeone, poi vedremo Morata perché appunto alla fine dell'estate insomma potrebbe esserci, se lo prendono per 20 milioni a me va benissimo, più di 20 milioni io non spenderei più di 20 milioni per Morata. E l'esterno a sinistra appunto Zaniolo, ma come ha riportato Mollano, credibile o meno, che quest'anno comunque, quest'estate sotto quell'aspetto è vero, ne sta zegando un po', però io comunque quello che dice lui lo prendo sempre con le pinze, sul discorso dell'Elite la Juventus avrebbe chiesto di aprire, solo che il Bayern Monaco secondo Mollano chiederebbe 45 milioni perché il prossimo anno va in scadenza e un giocatore che va in scadenza per 45 milioni la Juventus e viene valutato 45 milioni la Juventus lo valuta troppo, cioè dice che è troppo 45 milioni per un giocatore che va in scadenza al prossimo anno, con gli stessi soldi però valuti Zaniolo, non me ne frega un cazzo che tu me lo paghi 10 quest'anno e 40 al prossimo anno, sono sempre 50, sono sempre 50 o sono sempre 40. Per un giocatore che vale meno di Gnabry, punto, Gnabry non è un campione, non è un fenomeno, un giocatore che comunque ti fa in questa Juventus qua la differenza, c'è poco a fare, ha vinto una Champions dal protagonista Gnabry, o Gnabry o come cazzo volete chiamarlo, Gnabry sarebbe oro colato o per il posto Di Maria o per affiancarlo dall'altra parte a Di Maria fino a che c'è Di Maria, cioè Gnabry è, credo, cioè se tu prendi Gnabry per me il mercato veramente prende un bellissimo voto e non si può rinunciare a Gnabry perché il prossimo anno va in scadenza quindi non lo posso valutare 45 milioni, discorsi del cazzo della società provinciale se è veramente così ovviamente. Quindi questa è un po' la situazione del calcio mercato, per quanto riguarda le eccessioni Arthur sul mercato è l'unico centrompista che è veramente messo sul mercato, gli altri se arrivano offerte importanti, quindi McKennie, Zaccaria, Rabiot solo se arrivano offerte importanti, fine. Quindi questo è, nessuno è incedibile a parte Roccatelli anche se io su Roccatelli non stravedo e lo sapete benissimo. Per quanto riguarda la difesa Rugani è destinato a rimanere come gatti, quindi sotto quell'aspetto nada ed Elite è l'unico che sembrerebbe in partenza e poi appunto stare molto attento alla situazione al quadrato, questo per quanto riguarda appunto le eccessioni. e da quello che mi hanno detto anche l'anno scorso, Chesney, ecco, su Chesney non... l'anno scorso mi hanno detto se arriva un'offerta per Chesney, Chesney non cedono e potrebbe addirittura fare il titolare per In e quei soldi li potresti investire in altri reparti ad esempio. Io sul discorso Chesney se arriva un'offerta anche per lui importante, anche da 20-25 milioni prima Chesney parte, però Chesney nessuno l'ha mai menzionato, però secondo me non è così, anche lui certo se arriva un'offerta importante, ecco, tutto lì, nessuno è incedibile dalla Juventus, a parte appunto Chiesa che comunque per il discorso infortunio nessuno lo vuole, Vlaovic e Locatelli in questo momento qua sono questi tre, siccome gli unici incedibili per Allegri e per la società, non per me ovviamente. Questo è il quanto. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, ditemi cosa ne pensate di Cambiaso e di questa situazione di calciomercato da Juventus, sappiamo che comunque la Juventus cerca un compromesso con Allegri, arriva bene e cerca un compromesso con Allegri, gli vuole dare 15 giocatori pronti, formati, mixtra, giovani, esperti ed esperti e basta, e poi vuole completare la rosa con tre, quattro giocatori dell'Under 23. Su lei dovrebbe fare il vice di Maria, molto probabilmente, Miretti e l'altro ho sentito addirittura qualcuno dire che Miretti, Fagioli sono tutti i registi, allora Fagioli, Lea Cremonese non ha giocato a regista, ha giocato a trequartista, Fagioli per me è una mezzala in un centro campo a tre, Fagioli. Miretti è l'unico che può farti regista, ma qui in Italia c'è sta ossessione del regista, Miretti per me può diventare una mezzala di regia, come lo è Modric, adesso è che Miretti mi diventa Modric, però giusto per farvi capire, Modric in Italia avrebbe fatto cosa? Regista, perché qui in Italia siamo indietro ogni luce a livello mentale, purtroppo. Questo è il quanto, ragazzi, perché le altre parti, com'è che usano il centro campo? Incontrista davanti alla difesa che comunque abbia piedi buoni e due mezzali tecniche, una di progressione, diciamo anche col tiro da fuori, visioni di gioco, l'altra dribbling nello stretto che crea superiorità numerica e che si inserisca e faccia gol. Questo è, vabbè, comunque, questo sarebbe il mio centro campo ideale, questo è quello che un po' vedo anche in Europa. Detto questo, fino a fine forza di vento, ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.